Oggi si tiene il convegno della giornata della poesia. Quest'anno ricorderemo anche James Collar, che durante questa giornata era sempre presente e pronto a recitare le sue poesie. Purtroppo quest'anno non potrà avvenire, perché non c'è più, ma noi lo ricorderemo sempre. Per me, come per tutta la mia classe, è l'ultima partecipazione alla giornata della poesia, dove noi reciteremo le nostre poesie e parleremo del nostro ambiente.